I carabinieri del nucleo e spettorato del lavoro di Pesaro e Urbino assieme ai colleghi di Venezia e personale IMSS e INAIL dopo una lunga e articolata indagine hanno denunciato sei personaggi di nazionalità straniera per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini su iniziativa del corpo e successivamente su delega della procura di Pesaro hanno fatto emergere un giro di sfruttamento e caporalato nel settore del volantinaggio porta a porta dove attraverso sette ditte intestate a cittadini pakistani venivano assoldati extracomunitari in precarie condizioni e sfruttati anche 11-12 ore al giorno per sei giorni alla settimana con una misera retribuzione giornaliera di 30 euro rigorosamente in nero e sotto continua sorveglianza. Alcuni di loro erano costretti a vivere anche in condizioni degradanti e igienico-sanitarie precarie. I carabinieri dopo pedinamenti e raccolta di testimonianze hanno individuato oltre 70 lavoratori in nero reclutati nelle province di Rimini, Pesaro ed Ancona oltre a svelare un'evasione contributiva di oltre 400 mila euro e un imponibile contributivo di ben 900 mila euro. Per queste irregolarità sono state anche notificate sanzioni per 750 mila euro.